Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, oggi un video della Madonna. Innanzitutto, 13.30, oggi live su Twitch, così continueremo a giocare e a nerdare insieme su Call of Duty Modern Warfare, a farci due risate insieme. Come sempre, passate a iscrivervi sul canale Telegram per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. Ma cosa oggi molto importante, come sapete almeno una volta al mese ve lo chiedo, oggi dovete spaccare il video. Lo dovete condividere con il mondo, ma soprattutto dovete lasciare tutti quanti un bel mi piace. Voglio arrivare per questo video a mille like perché ci saranno delle informazioni e troverete delle informazioni che non leggerete al momento da nessuna parte. Ho delle notizie in esclusiva mondiale, soltanto per voi. Quindi mettetevi comodi perché sta per iniziare un TG informativo, come vi dicevo, della Madonna. Partiamo. Innanzitutto, questi sono i nuovi contenuti che secondo i leakers troveremo nella Season 3 di COD Mobile. Season 3 che dovrebbe arrivare intorno al 20 di gennaio, secondo appunto le indiscrizioni. Troveremo nuove armi come l'MP-5, l'MP-7, il G36C e il Vector K10. Ci sarà il nuovo ripristino dei livelli, forse previsto a 200 livelli, e il sistema di prestigio con mimetiche in oro e diamante. Mappa di transit su Zombies, la nuova Scorstrick XS-1 Goliath direttamente da Advanced Warfare e i cambiamenti meteorologi dinamici nella nuova mappa della Bat Royale che dovrebbe prendere il nome di Cernobile, quindi qualcosa veramente di incredibile. Vi faccio vedere nel frattempo anche la nuova cassa BK57 Nuovo Anno 20 che è disponibile nello shop di COD Mobile e vi faccio vedere che è disponibile invece la nuova modalità solo cecchini o meglio, ritorna la modalità solo cecchini soltanto a tempo limitato, 6 giorni per giocarla e 6 giorni per completare le rispettive sfide. Non è finita qui perché vi do altre chicche sui contenuti che secondo i leakers troveremo nella Season 3. 9 mappe multiplayer Meltdown, Tunisia, Eosys nuova modalità 20 contro 20 David Mason dovrebbe essere il personaggio rappresentativo della stagione Hardpoint diventerà una modalità fissa ci sarà il tema Nuclear dell'Apocalisse i boss Zombies saranno 3 Butcher, il Cerberus e il Butcher con il Cerberus sulle spalle. Vi faccio vedere in anteprima quelle che saranno le nuove mappe multiplayer Meltdown, Tunisia, Eosys e alcuni dei personaggi Zombies che troveremo all'interno del gioco nella nuova mappa che secondo i leakers sarà Transit come potrete vedere c'è anche un personaggio caratteristico della modalità Zombies di Black Ops quindi sarà qualcosa, sarà secondo me al momento la season più importante di COD Mobile e vi ricordo ve la porterò in anteprima e la proveremo tutti quanti insieme in live a partire dal 20 di gennaio se poi ci saranno cambiamenti a riguardo ve lo farò sapere ma buttiamoci a capofitta all'interno di Modern Warfare ragazzi perché come vi dicevo ho delle notizie importantissime innanzitutto vi faccio vedere questo simpatico meme che arriva direttamente dalla rete grazie a Saucy Life la differenza quando c'erano i doppi punti esperienza con l'obiettivo Prestige e i doppi punti esperienza oggi con le Season quindi fatemi sapere se vi piace questo nuovo sistema dei punti che c'è la progressione grado con le sfide e la Season oppure vi piaceva prima quando si livellava e si andavano ad ottenere appunto i punti per sbloccare i Prestigi ieri ho fatto il sondaggio su Telegram e il 59% preferiva i vecchi Prestigi mentre il 41% gli sta piacendo questa novità quindi al momento sembrerebbe aver vinto appunto i vecchi e cari Prestigi vi faccio vedere inoltre che Sony ha registrato due nuovi brevetti riguardanti il DualShock della nuova PlayStation 5 nei quali possiamo notare 4 nuove aggiunte definite come due pulsanti e due manopole il loro funzionamento però è ancora misterioso al momento inoltre Let's Go Digital ha creato un altro render del DualShock avvolendosi anche dell'aiuto del design italiano Giuseppe Spinelli sempre in merito d'Italia vi faccio vedere questa bellissima fanarte che arriva dalla nostra community di Call of Duty una fanarte creata da Samuele Ricci che va a riprodurre il Kruger uno degli operatori presenti all'interno del gioco veramente molto molto bella complimenti a Samuele come vi dicevo delle esclusive mondiali sul futuro di Modern Warfare e sul futuro del franchise di Call of Duty partiamo innanzitutto a Gennavi posso dire che uscirà un nuovo aggiornamento contenente anche alcune nuove bombe inoltre dopo le feste finalmente si discuterà riguardo ad alcuni cambiamenti al gameplay del gioco Activision a quanto pare ha deciso di non stravolgere adesso alcune meccaniche di gioco molto discusse per vendere il più possibile durante le vacanze di Natale al grande pubblico le modifiche come riportato precedentemente arriveranno con l'aggiornamento di gennaio inoltre sembrerebbe dalle nostre informazioni che esisteva una moneta che si guadagnava gratuitamente in game giocando rimossa prima del lancio del titolo Activision potrebbe rintrodurla con l'arrivo della Season 2 e della Butter Royale vi posso dire un'altra chicca che verso la fine di febbraio-marzo potrebbero circolare alcune grosse informazioni quindi occhi aperti perché vi posso dire che tra febbraio e marzo arriverà qualcosa riguardante la Butter Royale sempre secondo le nostre informazioni le software house di Activision stanno iniziando a lavorare e lo sviluppo dei titoli anche per le console next gen quindi come vi avevo anticipato il prossimo Call of Duty lo vedremo non soltanto su PS4, Xbox One e PC ma anche sulle nuove PS5 e Xbox Series X le ultime due chicche su Modern Warfare vi posso dire che l'ultima season del gioco al momento è programmata per settembre e non sono previsti al momento cambiamenti ed inoltre per rispondere a domande sulla Butter Royale vi posso dire maschere a gas e forse non solo quindi preparatevi perché troverete una marea di notizie riguardanti questa nuova modalità e troveremo delle cose favolose molte di più che superano di gran lunga Blackout di Black Ops 4 quindi qualcosa di incredibile sta per arrivare però altro non posso dirvi attualmente in merito al code del 2020 vi posso dire questa cosa il futuro è The Future Is come sapete questa frase è stata sempre utilizzata dalla Treyarch per campagne promozionali della saga di Black Ops le nostre fonti ci hanno confermato appunto The Future Is con i puntini di sospensione come sapete il franchise di Black Ops è sempre stato basato sul futuro East Black quindi questa frase potrebbe indicare e potrebbe confermarci appunto che il prossimo code sarà l'arrivo di un nuovo titolo della saga di Black Ops e potrebbe essere questo famoso reboot di cui si sta parlando tantissimo comunque le nostre fonti confermano questa frase il futuro è The Future Is con i puntini di sospensione quindi occhi aperti perché a brevissimo potrò darvi ancora maggiori informazioni al momento però Activision non ha ancora deciso la data di rilascio del prossimo code cosa molto insolita visto gli anni precedenti che MV quest'anno possa durare di più di un anno a questa domanda ancora non posso rispondervi però vi posso confermare ufficialmente che Activision ancora non ha definito la data di uscita del code del 2020 mentre in passato in questo periodo la data era già stata decisa dal publisher vi avevo detto ragazzi che vi avrei riportato notizie bomba notizie in esclusiva mondiale notizie ragazzi affidabilissime come avete visto in passato come la famosa Alfa 2v2 che vi abbiamo dato in anteprima mondiale come l'arrivo della Battle Royale in estate e avete visto in questi giorni stanno continuando ad arrivare conferme e a breve anche l'annuncio notizie in anteprima sulla season 3 quindi preparatevi ragazzi che c'è tanta carne al fuoco continuate a seguirmi su youtube su telegram e su twitch perché ne vedrete delle belle e troverete tantissime notizie in anteprima sul mondo di Call of Duty per essere pronti ai nuovi contenuti qui sotto nei commenti ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate in merito alla season 3 di Code Mobile sui nuovi contenuti in arrivo su Modern Warfare sulle prime notizie in merito al Code del 2020 che quindi a questo punto sembrerebbe essere confermato come diceva Kotaku che sarà sviluppato non soltanto dalla Sledgehammer Games Ravent Software ma anche dalla Treyarch vi aspetto alle 13.30 in live su twitch così continueremo a nerdare mi manca pochissimo il completamento dell'oro dell'MP5 e dell'M4A1 l'MP5 mi sembra 7 colpi dalla distanza e l'M4A1 una quarantina di uccisioni dalla distanza quindi oggi finiamo altri due armi oro e poi passate ad iscrivervi su Telegram per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty notizie 24 ore su 24 e mi raccomando un bel mi piace mille mi piace per questo video in esclusiva per voi e noi ci vediamo ad un prossimo video e noi ci vediamo e noi ci vediamo e noi ci vediamo e noi ci vediamo